Allora, siccome il tempo nostro è danaro, qui c'è Concetta Fusco, qui c'è l'amichetta mia, che è storica, dì un po' chi sei? Marisella. Lei è Marisella e qui c'è la Madonna e tutto a bel presepe. Allora, io Concetta metti di qui che facciamo tutto da sola, riprendi un attimo poi. Ecco, riprendimi un attimo. Io leggo una poesia velocissimamente, mi leggo l'occhiale. Corrì da Carvatella 2021. Da quando nel 90, il tempo ritrovato quando ha aperto il romolo affondato, di Carvatella, non solo da Carlotta ho fotografato e raccontato, proprio qua la sporta della fontana Carlotta ha presentato, Il motto era, se a te della mia te importa, usa di stoffa la sporta, naturalmente di Carlotta. E proprio ieri per magia da un cassetto a Scefone in fotografia. E guarda un po', c'è pure della camicia mia alla figlia. Era già amica della pantalonaglia e mi sento ogni tanto che sulla scalinata chiud'un somaro abbaglia e raglia. E alle carovane dei turisti continuo a dire con sapiente ignoranza che la Carvatella è rione ventietresimo. Mettendoselo bene in testa, almeno mo' che sappia arrivà il 2022. I giorni di Roma sono 22. Non so perché te lo capisci da te. La figlia della pantalonaglia e quella della camiciaia, un gran lavoro avevano cominciato qua, un gran lavoro che vale più dell'oro. A Carvatella la storia è donna, partiva dall'831, che in un certo senso non ci avanza proprio, non da nessuno. Perciò, proprio qua, la storia vera di Carvatella bisogna recuperare. Non c'è fretta, io ho la mia pacchetta, per le nonne ci pensa concetta. Io sto parlando di Antonietta, che è stata del centro anziani il presidente De Garbante. Se guardate la foto, la riconoscete all'istante. Io sono venuta apposta alla gorrita perché voglio lanciare la storia nostra, quella delle donne di Carvatella, la sfida. E c'è anche Rosario Mocciaro. Sì.